Allora ragazzi, prima che cominci il video vi chiedo 20.000 like Adesso capirete il perché Buona visione Allora ragazzi, il video ha raggiunto quasi 30.000 like Credo che quando finirò di fare questo video già sarà 30.000 like Comunque, vi chiedo, sto per uscire Vi chiedo soltanto 20.000 like per come sono vestito Già il pigiamino con i cuori, con le persone che mi vedranno, è ridicolo Poi, passiamo al sotto Ciabattine rosse, rosse con calze nere Quindi ragazzi, vi chiedo 20.000 like soltanto per come sono vestito Comunque, usciamo Usciamo Siamo fuori, un po' di vento Ho chiuso la porta Già sono fuori Dio santo, il freddo Il freddo, io non ho nulla di sotto Non ho nulla Quindi Ho perso la sfida Già le macchine qui che cominciano a passare Guardate che c'era una macchina di dietro Io provo vergogna Allora ragazzi, vi chiedo 20.000 like per queste pazzie che farò Perché è la prima di una lunga serie delle mie pazzie Domani probabilmente avrò la febbre a 50 Già le persone qui mi guardano male Dico ma che cazzo sta facendo Freddo Guardate come sono combinato Cioè, passa la polizia Mi chiudo in un manicomio Le persone che mi guardano dalle finestre Ciao Porca troia che è freddo C'è freddo Le macchine Madonna mia La vergogna No va bene No io mi vergogno Regà Mi vergogno Faccio una cazzata Passo con le macchine Ok? Passo con le macchine che mi guardano Oddio mio Le macchine che mi guardano Dio santo La vergogna Ragazzi C'è fottutamente Freddo Porca troia Madonna le macchine che mi guardano Le macchine che mi guardano In questo momento Provo una vergogna Una vergogna Di quella allucinante Persone affacciate Nei balconi Salve signora Macchine che vengono di dietro Le macchine di dietro C'è freddo Vedo i polaretti Po 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 La retta Che mi passano qui Non ho parola Sono un coglione Sono un coglione Ragazzi Ha più o meno 20 minuti che registro Voglio vedere una cacatella Di 2 minuti Ma ragazzi Ho fottutamente Freddo Ancora persone dietro Madonna santa Persone che guardano male Oddio Ragazzi torno a casa Allora ragazzi Sono appena entrato a casa Le mie condizioni sono alquanto imbarazzanti Però ok Allora ragazzi Madonna Le mie unghie sono viola Non vi sto scherzando ragazzi Sono viola Vole vedere Sono viola Non vi sto scherzando Comunque ragazzi Questo qui sarà Sarà Cosa cazzo sto dicendo Sarà il primo video Di una lunga serie Chiamata Le cazzate di Marco Quindi ragazzi Madonna Le mie dita Arrimo a 20.000 like Per la prossima cazzata di Marco Comunque Commentate qui sotto Consigliatemi le cazzate Non si no Le cazzate da fare Le deciderete Come sto dicendo Le decidete proprio voi Io sceglierò le più belle E le farò Magari Cioè Calmatevi un poco Ragionate Perché Non mi potete Di Marco Vai in mutante In un centro commerciale Scriveranno Scriveranno sicuro Comunque ragazzi 20.000 like Prossima cazzata Ok Consigliatemi qui sotto nei commenti Vado a scongelarmi Perché ormai Sono diventato tipo Un gelato No Cosa sto dicendo Comunque vado a scongelarmi E a 20.000 like Prossimo video Bella No Prossimo video Prossimo video